Sono davanti al Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, chiamato anche Vittoriano, Altare della Patria. Situato al centro della Roma Antica sul colle del Campidoglio, è collegato a quella moderna grazie a strade che si ripartono a Raggera da Piazza Venezia. È opera di Giuseppe Sacconi, il quale trasse ispirazione dalla facciata dell'Altare del Pergamo. Altro modello fu l'ipotesi ricostruttiva di Pietro da Cortona del Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina. Per costruire il Vittoriano fu necessario demolire il quartiere Alessandrino per creare via dell'Impero. Fu inaugurato il 4 giugno del 1911 in occasione degli eventi collegati all'Esposizione Nazionale per le celebrazioni del Cinquantenario dell'Unità d'Italia, mentre le statue delle quadrighe furono poste sulla sommità solo tra il 1924 e il 1927. È un maestoso monumento dedicato all'Unità d'Italia in marmo bianco con colonne corinzie, statue e rilievi scultori che rappresentano allegorie patriottiche. Domina tutto l'insieme la statue equestre di Vittorio Emanuele, mentre le sculture decorative narrano momenti chiave della storia italiana. Grazie.